Adrian Stoian dice no al Pescara. Il contatto nato proprio ad inizio di questa settimana sembrava furiero di un accordo, anche piuttosto rapido, tra l'esterno d'attacco romeno e di Biancazzurri. E nel caso si sarebbe trattato di un ritorno, ma la trattativa Lampo si è arenata nelle ultime ore. Stoian aveva già militato nel Pescara nel 2010-2011, la stagione di Serie B post-promozione targata Eusebio Di Francesco. Il giocatore arrivava dalla primavera della Roma, successivamente Stoian ha toccato altre tappe, quali Chievo, Bari e soprattutto Crotone, con cui ha disputato tre stagioni e mezzo, tagliando anche il traguardo di una storica promozione in Serie A. Piazza che ha lasciato lo scorso gennaio per tornare in patria, sei mesi senza gloria alla Steau a Bucharest, dove ha giocato due gare di coppa, nessuna in campionato. Il Pescara potrà proseguire la ricerca di altri esterni d'attacco, compatibilmente con la grossa incognita legata a Riccardo Sottil, l'esterno che si è comportato bene nel ritiro della Fiorentina a Moena e che il tecnico Montella, ben impressionato dalle sue qualità, ha portato negli States per la disputa delle gare di International Champions Cup. Il Pescara spera, ma il ritorno del figlio d'arte non è più così scontato. Resta in salita anche la strada che porta Gennaro Tutino, per il quale c'è la fila. Il Pescara ci proverà ancora con il Napoli, ma è una pista molto complessa. Più percorribili le trattative con De Laurentiis per l'acquisizione in prestito del regista Luca Palmiero e per la cessione in Serie C al Bari del difensore Marco Perrotta, che già in settimana potrebbe lasciare Palena per diventare un giocatore dei Galletti a titolo definitivo, con l'auspicio di tornare in Serie B il prossimo anno, proprio con il Bari. Quella di oggi, peraltro, è finalmente la giornata di Marco Tuminello. Il centravanti di proprietà dell'Atalanta, che ha trascorso gli ultimi giorni di relax a Roma, ha raggiunto Pescara per visite di rito e firma del contratto. Da domani si aggregherà con i nuovi compagni nel ritiro di Palena e si metterà a disposizione del tecnico Zauri, che, come lui stesso ha confermato sabato scorso in conferenza, non vedeva l'ora di poterlo avere in gruppo. Allo Stato, in una ipotetica gerarchia, Tuminello rappresenta il centravanti titolare del Delfino.